Dal papillon ad un plastico come quelli di Porta Porta, a chi non è mai capitato di ricevere da Babbo Natale un regalo insolito, uno strano di quelli che ti lascia senza parole quando è il momento di scartarli. Un'idea volevamo farcela anche noi, andando in giro proprio nei giorni più intensi di spese. E sentite cosa hanno trovato sotto l'albero i Beresi. Dei colleghi che mi hanno regalato un plastico di un'architettura progettata da loro. Perché è stato strano? Perché non me l'aspettavo e perché sono quei regali che non ti aspetti, che però poi metti in bella vista sulla scrivania perché fatto bene ci tenevo. E' capitato più di un'età. Cioè raccontami. Vabbè non posso. Diciamo nel decente voglio dire, una volta che magari hai scartato e dici ma che è questo? Non mi faccio. Io per esempio avevo già un monopolino e Babbo Natale al posto di un regalo e me l'ha portato. Forse una cravatta. Che non ha tanto gradito. No, no. Il primo commento qual è stato? Magari non facendolo sentire alla persona. Il primo commento non si può dire. Che non mi aspettavo sì sicuramente. Cioè? Per esempio un vestito da Babbo Natale. E che se ne è fatto di questo vestito? E che ho fatto? Ho fatto il Babbo Natale. Ma possiamo sapere il primo commento qual è stato? Bello, bellissimo, grazie. Di contro c'è anche chi ha ricevuto i soliti regali utili, ma uno strano lo avrebbe davvero gradito. Però mi piacerebbe averne. Tipo? Non lo so, un papillon che a me piacciono.